Ecco qua, allora mi presento brevemente, sono Darius Swarovski, sono di origine polacche, sono un gamer da circa 25 anni, utilizzatore di Linux da circa 8, principalmente per lavoro, insomma da quando l'ho scoperto non mi sono più tirato indietro perché alla fine ho pian piano con l'abitudine Linux è diventato la mia priorità come utilizzo e poi tutto il resto un qualcosa in più, ecco anche il gaming che fortunatamente insomma negli anni si è sempre un po' evoluto ed è arrivato ad un punto insomma adesso interessante come andremo a vedere perché Linux fa schifo per il gaming, c'è una scheda md forse o manchi di ironia o pazienza. Andiamo alla prossima slide. Allora diciamo che hai appena comprato un computer nuovo o in qualche ho usato da revitalizzare, diciamo che sei povero imparato dal blocco sovietico quindi pagare per i software è insomma contro la tua morale o etica o via così. Diciamo che la distribuzione da usare secondo me per le vostre per il vostro gaming è quella con cui avete più esperienza, cioè per me Ubuntu insomma è quella più naturale da usare, di conseguenza è stata la mia scelta. Comunque va bene una qualsiasi, appunto essere familiare, avere la familiarità nel installare, nell'installazione dei driver, nel suo interiso, nell'approvvigionamento del software, soprattutto. Comunque qua ho due link interessanti che sono la starting guide, la frequently asked questions di questa pagina di reddit, che insomma ti fa una bella panoramica di tutte quelle che sono i bisogni, eventuali scelte di distro e via così, installazione di steam facile, le compatibilità con windows e via così, insomma per la guida e anche qua principalmente tutte le domande che si possono avere sull'hardware, su quella che è la compatibilità del driver e via così. Comunque torniamo alla nostra presentazione, allora diciamo che qua la cosa si divide abbastanza in due principali famiglie di produzione di di schede video, cioè tra quella che è AMD che è un po' la principalmente l'alternativa più aperta open source e Nvidia che ha un driver proprietario che bene o male alla parte di quello che è la sua controparte windows come funzionamento. Praticamente Nvidia volendo fornisce anche script di installazione che sono agnostici alla distribuzione che usate, quindi ve la potete scegliere tranquillamente. La cosa è un po' diversa diciamo per le schede AMD, soprattutto per quelle più recenti, visto che il driver è principalmente quello migliore integrato con il kernel e col pacchetto mesa, quello che succede è che ovviamente una rolling release o comunque una distro che ha sempre kernel e pacchetto meso giornato, in questo caso ti va a dare risultati ben migliori di quelli che sono magari release stabili come Ubuntu e via così che hanno bisogno di PPA esterni aggiunti per avere i driver nuovi o magari installazioni di kernel manuali o compilazioni di ESO per avere le migliori prestazioni insomma che la scheda può offrire con AMD. Poi insomma per il discorso eventualmente per chi gioca magari con l'integrato della Intel il discorso è abbastanza simile, nel senso che se tu hai il kernel più aggiornato, il pacchetto mese più aggiornato con Intel hai le migliori prestazioni che tu puoi avere insomma con una scheda di quel tipo lì che comunque insomma per qualcosa di leggero ancora si adatta a un po' di giochi chiare con qualcosina e qua tra tra i presenti che schede avete di video di solito cosa cosa montate sentite con la UHD cos'è una serie mi ricordo la 130 cos'è che era la MX130 cos'era di perché so che la MX150 è quella della GTG 1030 ma la MX130 vediamo cos'è che è l'equivalente di Nvidia di questa scheda qua, ah la 940 MX si qualcosina si riesce a fare anche con quella di questa scheda qua, dai insomma cose leggere che è gaming principalmente tranquillo eh qualcosina si fa ma lì c'hai tutto quel sistema bumblebee con libri d'azione no? ho spedito un casino fa dei casino incredibili va bene dai insomma comunque una volta che insomma se qualcuno ha bisogno di approfondimenti per i driver mi faccia sapere più avanti allora andiamo avanti però i giochi diciamo che ora che abbiamo la nostra bella distro fiammante configurata e così via ma con software diciamo che Linux attualmente offre molte alternative cioè tra software nativo o non DRM o DRM free open e cosa so su layer di emulazione vari quindi qua rivolgiamoci ai Santi come si vuol dire i Santi dei videogiocatori sono un po' particolari c'è questo signore qua che è Lord Gaben cosiddetto chiamato e che è proprietario di una compagnia che si chiama Valve che ha questo software che si chiama Steam che un po' insomma se si videogiocano è un po' difficile non conoscere ecco diciamo e questa è un'azienda che negli anni e soprattutto negli ultimi dieci anni ho investito veramente tanto nel gaming su Linux con svariate insomma iniziative come anche le Steam Machines che sono un po' andate in disuso però insomma comunque restano lì a bollire tra i vari progetti e stanno pian piano sviluppando insomma nuovi layer di compatibilità diciamo che loro comunque si caratterizzano con un ottimo supporto cliente e via così insomma negli ultimi anni sono saltati fuori tanti bei porti interessanti insomma di queste aziende qua elencate Aspyr, Feral Interactive, Virtual Programming ci sono tutte aziende che insomma negli ultimi 6-7 anni hanno cominciato a far uscire porti interessanti quindi se vediamo magari brevemente i siti di queste aziende cosa hanno da offrire per dire l'ultimo giocofera che è uscito qua su Linux era Dirt 4 insomma che gira molto bene nativo Shadow of the Tomb Raider e via così insomma tutti i titoli belli nuovi, belli fiammanti cioè allora hanno fatto tutta la saga praticamente del nuovo Tomb Raider, Hitman e via così insomma danno un bel po' di esperienza penso che sia l'azienda più interessante a livello di quelli che sono i porti i titoli nativi per Linux questa penso che sia il top un'altra molto interessante Aspyr Interactive insomma ha portato, ha fatto un porting di un gioco che per me è molto caro che è Borderlands soprattutto il 2 altri titoli interessanti Observer, Civilization che sicuramente molti conoscono diciamo che hanno una varietà di titoli interessanti poi anche qualcosina aspetta che qua abbiamo desktop di Linux beh, qua in realtà manca un po' di cosa perchè loro facevano anche degli altri giochi questi virtual programming che avevano sviluppato altre cose interessanti che qua non sono più citate perchè mi sa che avevano tirato giro da Steam come Direct Showdown comunque anche loro hanno lo suo bel bel parco titoli ovviamente non mi ricordo se era in questo slide qua c'è anche lo store di Steam store di Steam che diciamo tra le varie features interessanti che che permette beh adesso non so se qua mi sta funzionando in modo corretto ma di selezionare praticamente la cosa che permette nelle preferenze la scelta soprattutto qui in fondo della piattaforma quindi di conseguenza quello che può fare un utente è scegliere che vuole visualizzare principalmente titoli compatibili col proprio sistema operativo che in questo caso Linux e di conseguenza visualizzare sia sulla home che nelle varie categorie dei giochi sono anche free to play vediamo se adesso sta funzionando in modo corretto tutti i titoli visualizzati saranno 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 quelle compatibili praticamente con Linux e questo insomma il primo passo insomma la cosa dei port nativi o semi nativi perchè tanti comunque anche qui usano un layer di traduzione di quelle che sono le chiamate DirectX a quelle che è l'OpenGL o Vulkan poi abbiamo Good Old Games che è una piattaforma molto interessante da un determinato punto di vista perchè offre titoli DRM free quindi non limitati da condizioni di utilizzo generalmente quindi condivisibili con altri utenti installabili su tutti i pc che vogliamo della nostra casa cioè per chi ha figli e amici su cui vuole installare su tutti i desktop di casa insomma i titoli senza avere problemi di account steam familiari non familiari altre limitazioni che magari altre piattaforme vanno ad imporre sull'utenza loro hanno come priorità di non portare queste limitazioni quindi di portare insomma software utilizzabile bene o male liberamente dall'utente che lo va acquistare che insomma è una è un'azienda interessante che è nata originalmente in Polonia facendo i port dei primi giochi pc circa 20-30 anni fa pian piano si è evoluta in questo store online principalmente che che va ad offrire questa insomma alternativa ad altri store più invasivi più oppressivi a livello di licenze insomma qua abbiamo catalogo loro che insomma quanto interessante anche fa vedere ci sono anche svariate insomma titoli classici come Baldur's Gate cose anche più moderne c'è anche il port ecco questo è un altro gioco di che ha fatto virtual programming che è una versione nativa di inux di The Witcher 2 è stata sviluppata già all'inizio è stata un po' controversa perché la performance quando è uscito questo gioco non era delle migliori però poi negli anni l'hanno migliorato e man mano insomma sono riusciti a recuperare la loro reputazione comunque un'altra cosa interessante qua nei requisiti ti dicono insomma le distribuzioni consigliate bene o male l'hardware con cui si può fruire e qui le librerie scusate e di cui fa bisogna per l'installazione e il funzionamento i pacchetti eventualmente che devono essere installati per assicurarsi che il software funzioni sul proprio computer quindi diciamo che oltre a avere bene o male le stesse garanzie di Steam ha questa cosa in più c'è nessuna attivazione e nessuna connessione online forzata sull'utente quindi diciamo che di vantaggi qua volendo ce ne sono insomma per l'utente medio che vuole distribuire il proprio gioco insomma che ha scaricato prestarlo liberamente serenamente insomma a familiari amici da provare e così via insomma rientra nella loro nella loro filosofia diciamo ecco andiamo avanti prossimo un altro distributore interessante che è Humble Bundle che è un'azienda sommonata circa 10 anni fa che è stata in certi sensi fondamentale perchè ha lanciato Linux Gaming per certi per certi versi perchè ai tempi diciamo quelli che non si offriva ancora questo modello pay what you want c'è quello di permettere di decidere l'utente di offrire un pacchetto di videogiochi e far decidere l'utente voglio acquistare questo questo quest'altro e lo voglio fare a questo determinato prezzo che era una cosa che 10 anni fa non si vedeva da nessuna parte è stato un po' i pionieri hanno sdoganato questi modelli di bundling praticamente che la cosa più interessante per quello che è il gaming su Linux però è la cosa ci sono i humble indie bundle che già da un po' di anni fa quando uscivano questi bundle richiedevano espressamente agli sviluppatori che praticamente dovevano fornire compatibilità con il sistema operativo Linux cioè altrimenti non venivano ammessi in questi bundle diciamo che è interessante perché determinati sitoli per motivi di licenza sono disponibili solo su humble bundle tipo il primo torchlight la versione senza DRM è disponibile solo su questa piattaforma praticamente loro si sono evoluti in un multi store di licenze e tante cose diverse permettendo anche insomma abbonamenti mensili in stile quello che è Xbox Live simili per le console ti vanno a fornire per una cifra insomma di 10 euro mensili ti portano sempre 12 titoli abbastanza interessanti insomma ogni mese spesso compatibili per Linux però la cosa più interessante magari sono questi pacchetti qua che spesso succede che hanno beh questo magari no che hanno magari molti titoli compatibili con Linux di conseguenza sono magari interessanti per il nostro tipo di utenza comunque poi vediamo ci sono anche titoli che sono Windows poi poi vediamo come si possono trattare anche titoli normalmente che sono chiusi a quel sistema operativo cioè oltre vabbè adesso loro sono evoluti anche insomma in altri altri tipi di software fumetti altre cose che insomma adesso non stiamo lì a vedere e praticamente hanno anche loro una bella bella sezione allora fammi vedere tutto che qui c'è la possibilità di filtrare per la propria piattaforma che è Linux possiamo di vedere di vedere solo i titoli che effettivamente sono nativi che qui offrono le chiavi e magari possiamo anche vedere tipo di distribuzione DRM è DRM free quindi possiamo avere una per vedere quali giochi sono DRM free anche qua come per per good old games una delle priorità è avere anche questa libertà di poter scegliere che il videogioco in questione sia questa forma di distribuzione più libera cortesemente se qualcuno vede domande in chat mi avvisa che le vado a leggere nel caso grazie tipo qui abbiamo la disponibilità del software DRM free ok humble bundle passiamo al prossimo slide ecco una cosa interessante comunque una grande disponibilità dei titoli che comunque sono open source free to play o insomma free software in linea con la con quello che è diciamo lo spirito del nostro sistema operativo diciamo che si possono trovare tanti interessanti cloni di quelli che sono i grandi classici del videogioco che sia quake warcraft civilization super mario sonic insomma magari vi faccio vedere un po' di quelli che secondo me sono un po' quelli più interessanti in questa categoria come super tokskart penso sia già conosciutissimo che questo interessante clone principalmente ispirato liberamente a quello che è Mario Kart praticamente insomma e penso che sia uno dei progetti open source più interessanti ecco da vedere a livello di gaming ma un kart in 3d molto dettagliato molto bello insomma tra l'altro insomma con tutte le mascotte dei vari delle varie distribuzioni di GNU di Linux pian piano stanno aggiungendo anche tipo Emule, Pidgin, Puff, Wilberg e quello di Gimpsom varie mascotte, vari tracciati insomma diciamo che è un progetto molto interessante che è in continua continua evoluzione sia a livello di grafiche che di contenuti ci stanno lavorando molto e molto bello sicuramente uno dei progetti da seguire insomma se l'open source è la priorità diciamo che si può tranquillamente scaricare da svariate piattaforme spesso si trova anche direttamente in repository quindi non c'è bisogno di scaricare i file diciamo che è sempre una bella comodità un altro titolo molto interessante open source se non mi ricordo male si 3d open source sonic questo sonic roboblass 2 che titolo che devo ancora ben esplorare molto interessante insomma è una versione 3d dimensionale di sonic completamente realizzata dalla comunità open source quindi cosa parecchio interessante poi ci sono insomma gli fps e gli fps classici che sono stati un po' anche il motore iniziale del gaming su linux alle sue origini quando c'erano anche i port addirittura attivi di quake di quelle cose lì 20-30 anni fa quando si cominciava c'erano loki games tanti sparatutto erano molto popolari i tempi con la con quella che era l'utenza di linux dei tempi poi un altro un altro sparatutto molto bello che questo diciamo che dovrebbe essere anche open source anche se pubblicato su steam è questo fistful of rags che praticamente è un videogioco in uno sparatutto in stile western molto bello insomma un'altra cosa da provare che qui se non ricordo male c'è la possibilità di contribuire non mi ricordo esattamente che licenza ha perchè qua sono state sbagliate cose come il creatore che era scomparso si era rotto delle critiche insomma cose che possono succedere poi lo sviluppo è passato un po' più alla comunità però comunque è un gioco molto bello gira su sistemi questo è uno di cui i videogiochi sono consigliati per chi magari ha dei computer non proprio potentissimi sui requisiti minimi sono molto accessibili 2 giga di ram geforce serie 8 cioè una cosa che già anche con con hardware abbastanza datato si riesce a a giocarci insomma risoluzioni un po' più modeste e qui invece su rendiz sempre su questa sulla linea si può trovare questa lista poi ovviamente tutti questi link saranno condivisi insieme alla presentazione quando ho finito cerco di di mandarvi un link condivisibile così potete vedere tutti i materiali che abbiamo visto insieme questa sera praticamente questa è una lista di tutti i giochi principalmente gratuiti e con le con le relative licenze insomma una lista con le relative licenze di quello che insomma disponibile gratuitamente anche spesso liberamente su linux che sia videogioco sparatutto che c'è la war fork che è a fork di warsaw cube 2 tanti giochi molto ispirati a quake principalmente o a doom altri titoli di avventura strategia free civilization free colonization c'era un clone di master of a rion per dire l'engine quello libero di command and conquer che è molto bello anche quello da vedere insomma beh questo edgeworth si è un clone di worms c'è un po' di tutto questo è anche un titolo molto bello che è battle for west questo è anche per i computer che magari hanno anche la gpu integrata è un strategico pieno di storia molto in stile heroes of minds and magic fire emble ma anche per chi conosce più nintendo che gira su dei computer anche molto poco potenti molto carino da vedere insomma le sue grafiche questo è completamente open source non ricordo male create si possono anche creare le proprie campagne i propri scenari ottenere le cose insomma un altro titolo interessante di quelli liberi e gratuiti che si può visionare poi insomma qua c'è un po' di tutto insomma ognuno può trovare la cosa che gli piace di più per quello ci sono state anche dei tentativi di giochi online e liberi come un ryzom di mmo poi c'è insomma i vari rogly che così via insomma c'è una bella una bella selezione ecco insomma ognuno può trovare qualcosa per sé anche se vuole tenere il computer strettamente con software libero diciamo che qualcosa si trova interessante anche se negli ultimi anni diciamo che sono stati un po' penalizzati questi progetti per colpa di tutto il software commerciale che è arrivato diciamo che ci sono state meno contribuzioni però insomma diciamo che tante belle cose si possono ancora trovare qui bene la prossima punto interessante qua cominciamo ad adentrarci su quelli che sono i layer di emulazione anche se a detta dei creatori Y non è un emulatore insomma è uno dei classici acronimi da linux da hacker dove le lettere che che vanno a comporre principali sono una frase praticamente quello che permette è di far girare software windows anche insomma fuori da quello che è la sfera del videogioco per chi interessa progetto Y senza insomma dover fare conti con la gestione di quel sistema operativo praticamente l'altra cosa interessante è che praticamente per DirectX9 successiva ci sono dei dei traduttori praticamente real time cioè che si chiamano adesso è Vulcan 9 perché la versione praticamente con Vulcan però prima c'era Galium 9 che già funzionava con le schede AMD anche di un po' di tempo fa diciamo che che già portava un vantaggio ai tempi per quelli che avevano le schede video AMD qualche anno fa perché riuscivano ad avere l'emulazione diretta di DirectX senza avere peso sulla traduzione diciamo che c'era un 95% della prestazione di quello che era software su Windows insomma una perdita minima di prestazioni con la possibilità di far girare i software i giochi via così in quel tipo di schede la principale alternativa quella di cui voglio parlare è Proton però andiamo brevemente a vedere insieme quella che è insomma la pagina di WineHQ che è la base di Wine praticamente qua ci permette di scaricare Wine di solito ci sono i pacchetti già preparati per Ubuntu per tutte le varie distribuzioni cosa interessante che c'è tutto il database di applicazioni insomma che funzionano ecco con Wine anche se tanti diciamo che è il database più datato ecco perché attualmente molti sono spostati più su 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 Proton che sarà la cosa di cui voglio parlare adesso insomma questo in Proton che insomma modo di fluire dei videogiochi Windows senza pensieri ecco diciamo tra virgolette che offre una completa integrazione con quello che è il client di Steam quindi con tutti gli eventuali videogiochi acquistati negli anni su quel sistema che è tanta bella cosa una gran bella compatibilità con controller diversi poi la possibilità di simularne anche la compatibilità con diversi tipi di input che sia quello stile Xbox o quello direct input che è quello degli altri diciamo che offre una bella importante compatibilità con quello che sono i videogiochi anche molto recenti usciti quest'anno o l'anno scorso e ha anche queste versioni patchate addirittura per i titoli bonomale che vanno a rincorrere le uscite nuove principali interessanti che è Glorious Eggroll questo utente GitHub che va a portare il patching proprio più possibilmente sviluppato allora diciamo che un grande vantaggio anche di Steam e di Proton è che avendo una base d'utenti enorme la cosa che succede praticamente che ovviamente il feedback arriva in modo cedere tanti si prestano a testare magari hanno la doppia partizione quindi comprano già i videogiochi per windows ma li testano intensivamente anche per linux per vedere quanto per entrare quanto meno sull'altra partizione possibile comunque in questo caso Proton può essere compilato utilizzato con client alternativi anche in modo indipendente che è disponibile su Github a base di codice insomma è principalmente open source comunque con linea con wine liberamente consultabile si integra con steam client può essere cronato può essere ecco si può fare la build tranquillamente in modo indipendente da quello che è il client di steam nel caso diciamo che ha ecco insomma è una bella miglioria di quello che è oltre il wine solito insomma ecco una grande una grande varietà di opzioni per l'utilizzo per disabilitare in modo facile abilitare determinate funzioni di usare un renderer invece dell'altro usare wine 3d invece di vulcan insomma nel caso che il titolo lo richieda ecco per forzare addirittura il livello DirectX 12 cioè può addirittura virtualizzare questo livello che magari fa partire i videogiochi su schede che magari non hanno un completo una serie completa di features a livello di quello che è DirectX 12 e via così ecco diciamo che copre tante belle tante belle alternative ecco per la configurazione e per l'utilizzo ecco anche fuori quello che è insomma il mondo della Valve che può essere apprezzato o meno ecco insomma dall'utente Linux ecco abbiamo invece le release precompilate di Proton Glorious Eggroll di questo utente ingegnere di Red Hat mantenitore di Wine Staging insomma questo ragazzo interessante che va ad applicare tutte queste patch moderne per giochi che sono usciti questo mese insomma Serious Sam Watch Dogs 2 e Soul Caribur 6 cose molto recenti che vanno insomma va a migliorare la compatibilità di determinati titoli insomma è una cosa un po' più stile un po' più rolling release diciamo di quello che può essere Proton quindi qua si può trovare il versionamento ecco per dire un altro gioco interessante uscito di recente Death Stranding su computer insomma grazie alle patch di Glorious Eggroll si va a farlo funzionare anche su Linux cosa che magari tempo fa era fantascienza insomma ritrovarsi con avere titoli recenti che grazie a all'impegno di queste persone finiscono insomma per funzionare più o meno correttamente con il sistema operativo Linux e la cosa interessante che è disponibile questo database il Proton DP grazie a Proton e Steamplay molti giochi Windows ora funzionano con Linux qui abbiamo anche insomma una bella panoramica di quelli che sono i videogiochi più popolari e del loro funzionamento insomma i verdi sono i videogiochi nativi i grigi magari sono quelli che che sono pian piano stanno divertendo compatibili i rossi in questo caso sono quelli non compatibili con Proton che per il caso del titolo in questione Player of No Battlegrounds Tom Crazy Rainbow Six Siege si tratta di una mancanza di compatibilità con l'anti cheat che è un anti cheat molto invasivo che si chiama easy anti cheat che va addirittura ad applicarsi sul kernel in certe frazioni quindi è una cosa che diciamo che stanno lavorando per esternizzarlo probabilmente insomma i giochi più popolari che siano i 10 che siano i 100 tutti questi che principalmente sono in rosso utilizzano quel sistema di anti cheat ing ben piano insomma stiamo arrivando al punto in cui tutti i videogiochi più nuovi più interessanti più popolari attraverso Proton e il supporto di Proton riescono a funzionare su Linux insomma una bella cosa che per chiunque lo utilizza e vuole giocare qua si può informare o anche per la dimostrazione per eventuali indecisi o chi non crede che questi titoli funzionino qua insomma c'è un database ben dettagliato di quello che funziona come funziona perchè si perchè no questo vai a vedere questo è uno dei titoli più 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 popolari c'è scritto diretto due to IAC thanks epic ciao battle eye anti cheat tutti questi anti cheat molto invasivi che vanno a disturbare insomma la compatibilità con il nostro sistema operativo preferito insomma sperando che riescano a crearne insomma presto un'implementazione di questa che è la più grande falla ad oggi che insomma che va a crearci parecchi disagi insomma a parte si diciamo che sarebbe interessante so già che è in sviluppo da parte di Valve adesso questa implementazione potrebbe essere a momenti già disponibile ecco e cosa che ci rimane ah retro arc questo un altro software molto molto interessante retro arc praticamente un emulatore modulare praticamente estremamente compatibile con tante diverse distribuzioni linux windows android android anche magari versioni per retro consult queste questi dispositivi semi embedded che usano cos'era feridimox mi pare come sistema operativo un altro insomma un altro sistemino per le consoline basato sempre sul kernel linux che è in produzione e praticamente quello che fa retro arc ti permette di scaricare questi emulatori in pacchetti per per ogni bene o male console ci sono tante compatibilità ne offre una facile utilizzo una facile configurazione una bella interfaccia moderna insomma molto interessante per chi magari ha possiede le vecchie console in casa e vorrebbero avvivare o ricordarsi insomma come erano i videogiochi di una volta quando aveva quelle console per ricordarsi queste cose dunque è un bel bel emulatore anche questo insomma è se non ricordo male ha una una licenza abbastanza libera comunque diciamo che ci stanno lavorando bene allora vediamo farvi vedere un po' di dimmi no per retro gamer poi che siano anziani o meno quello non è non è un problema ecco insomma cioè penso che tanti sono cresciuti magari col nintendo per dire che magari adesso hanno vent'anni trent'anni con nintendo con super nintendo con queste console dimmi pure si 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 mh ma da finora finora diciamo i titoli solo linux ha già già praticamente sono una cosa inesistente ecco diciamo che comunque si può cioè c'era c'era un caso eh c'era un caso interessante che adesso non mi ricordo esattamente il titolo di questo gioco che è stato tipo 2-3 anni fa che è addirittura su steam cioè per una mossa che secondo me era un po' insomma una cosa più marketing che interessa perché il gioco in sé non è che sia chissà quanto interessante insomma il punto di forza di vendita di questo titolo adesso magari vediamo vedo se riesco a recuperarlo vediamo la ricerca era only linux game praticamente loro si vendevano beh adesso ovviamente sarà sarà introvabile c'era questo titolo che praticamente si vendeva commesso linux purtroppo ovviamente esclusive diciamo che l'idea di esclusività per l'utente linux medium qualcosa di controproducente anche a livello di di quella che è insomma l'obiettivo del sistema operativo stesso quindi si tende a a non creare quella 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 mancanza virtuale che usano le console insomma di creare esclusive o videogiochi compatibili solo con l'xbox la nintendo che sia così penso che sia insomma in media il pensiero di qualsiasi utente linux che sia controproducente ecco insomma per fatti altri motivi perchè si vuole insomma portare il proprio lavoro a più persone possibile ecco non esistono le esclusive linux purtroppo non esistono è una cosa che potrebbe fare la valve magari fra qualche anno potrebbe uscire fuori con questa con una botta del genere loro potrebbero farlo e che ancora l'ecosistema è un po' dobbiamo dare il tempo alla microsoft di scavarsi la fossa fondamentalmente perchè ci stanno impegnando ecco lasciare il tempo si esatto che la microsoft continui a scavarsi la fossa per arrivare a un livello insomma intollerabile cosa insomma già prevista dalla valve infatti c'è l'investimento non è un caso è per avere comunque altre piattaforme funzionanti funzionali per creare alternative ecco a quella quel sistema chiuso che ha un livello di praticità commerciale cioè che le piattaforme chiuse non in realtà non non sono un beneficio a nessuno ecco tranne a chi chi le usa ecco mhm si diciamo che i biglio giochi sono comunque ben o male considerate intrattenimento, quindi sono un campo che vive un po' la vita propria che è più facile che l'utenza dica tanto non mi importa dei miei diritti basta che riesca a fare quello che voglio che videogiocare e boh, del resto poco mi importa pian piano anche questo si sta spostando insomma anche questo focus comunque questo è un altro emulatore molto interessante che è Dolphin che tra l'altro questo offre compatibilità con due console interessanti ben recenti che è Gamecube e wii cioè wii di cui tra l'altro sono ancora in possesso bene direi che possiamo dare spazio alle varie domande meno male quello che devo farvi vedere ecco una cosa interessante ecco per dire vediamo se c'era qualcosa in chat perchè non ho avuto gli slide e adesso adesso creo il link condivisibile e magari vado a vedermi ottieni ottieni a dove dov'era ottieni link crea una copia no condividi ok persone gruppi cambia chiunque abbia il link copia il link fine ecco così è disponibile insomma per tutti quelli interessati sia la presentazione che i vari link contenuti ecco insomma anche e dimmi marco cos'è che è allora se non ci sono domande una cosa che potrebbe forse essere interessante vedere qua del client di steam e dove ci sono le impostazioni tra le setting praticamente c'è per abilitare insomma tutti tutti i titoli supportati da quello che è proton si può abilitare qua steam play e steam play per tutti i titoli disponibili qua tra l'altro si può scegliere anche insomma nel caso ce ne sia bisogno la versione di proton che tu vai a utilizzare insomma di tutti i titoli che ho installato vedete che questi sono tutti compatibili con windows una volta che passo li vedo tutti anche compatibili come linux adesso questi vediamo se sono quelli nativi no sono comunque tutti devo ritogliere quella spunta mi crea casini diciamo comunque è una bella bella percentuale dei titoli anche compatibile notivamente con quello che si è bloccata la tastiera insomma questi sono un po' i titoli che giocano questo è windows questo è windows questo è l'unico po' insomma interessante nativo tra l'altro è molto molto bello anche per chi ha portati di poco potenti insomma un po' di cose dimmi consiglio proton si si passaggio a proton insomma soprattutto se hai la libreria steam quella assolutamente è di una comodità incredibile vai a installare videogiochi e nei principali casi non devi neanche stare lì a configurarli o devi fare una configurazione minima che puoi facilmente andare a verificare qua su proton db non so se l'hai seguito per dire vedi che ci sono i titoli più più popolari un po' anche grand theft auto 5 insomma ci sono tutti i test degli utenti no fanno vedere la configurazione la versione di proton tutti questi dettagli eventuali fix che si possono fare che si può scegliere insomma eventuale vedere se che ppa usano per dire che usano installazioni di mesa per dire qua con ubuntu usano dei 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 praticamente dei repository esterni per arrivare a versioni di mesa più recenti no con le con le radeon riusci a vedere tutte queste cose da qua che essendo il wine db principalmente in disuso difficilmente le vai a trovare la c'è magari anche se vuoi usare wine liberamente le puoi usare o proton però qua vai a trovare queste informazioni e magari un altro client di cui non ho parlato è l'utris che ha insomma che è una open gaming platform insomma un'altra ancora un altro scopo ancora diverso che questo permette addirittura va a vedersi anche altre piattaforme fuori da quello che è anche l'emulazione cioè praticamente un client o una specie di client opperson completamente integrato con piattaforme diverse magari vai a vedere windows piattaforma o magari vai aggiungere anche che ne so arcade cioè ti permette di fare la ricerca insomma i filtri hanno un installer praticamente vedi insomma libretto arcade version praticamente se tu hai il client di l'utris installato scaricato sul computer ti permette insomma l'installazione diretta qua dal browser ti va a passare lo script di installazione direttamente nel client il client va a eseguire in modo automatico l'installazione di eventuali dipendenze emulatori e così via cioè insomma questo forse è un client interessante che potevo toccare l'ho consigliato anche da provare l'utris insomma io dico in youtube ovviamente gruppi attivi di giochi su linux non ne conosco più so che c'era un look su steam tempo fa a cui partecipavo che era principalmente inglese è una cosa che si potrebbe potrebbe provare a creare una comunità italiana effettivamente di gioco su linux potrebbe essere interessante da creare insomma da replicare lo steam lag italia o una cosa del genere si comunque quelle subreddit lì linux gaming insomma per informazioni anche guide o supporto tecnico per chi sa l'inglese è molto pratico e molto utile poi ovviamente io se vedi nei contatti nella fine delle slide ci sono i miei contatti se hai bisogno insomma di altre informazioni augurati ah beh insomma non è un problema dall'ombra ovvero da lontano ah beh si beh volete vedere qualche dimostrazione qualche software in azione ahahah allora beh intersposto devo imprendere con gli effetti speciali minchia le lanciamo qua le bombe allora vediamo se riesco ad intusarvi la banda con borderlands allora vediamo prima lo vedevo un po' appesantito dallo streaming però non sono stato lì a configurarlo perchè alla fine cosa che ho provato stasera un simple screen recorder che gira eccolo qua insomma figurati e beh anche questo penso che insomma per l'utente finale vedere effettivamente in azione e funzionamento sia qualcosa di interessante a parte i tempi di caricamento biblici che hanno questi titoli nuovi che vabbè insomma sorvoliamo eh si crea molta suspense perchè in realtà io ho disabilitato tutti i video di caricamento che sarebbero tanto belli adesso in questo momento c'era il robottino robottivo che parlava sullo schermo no quindi era tanto d'effetto effetto drammatico si vede il gameplay adesso bene 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 chissà che dai ah uno dei portatili con lo switcher eh lo so tanti 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 utenti si lamentano spesso è un bel casino se vuoi dopo magari ti vanno a cercare delle guide e mi scrivi esattamente qual è la configurazione perchè diciamo che ci sono due o tre alternative di utilizzo per per quel tipo di soluzione lì Nvidia ci sono due o tre switcher che ti vanno a fare anche direttamente da terminale quello che è il lavoro di cambiarti no la compatibilità di una scheda all'altra no eh ci sono delle alternative ecco su cui puoi scegliere e puoi vedere quella che funziona meglio col tuo computer e in base a quella tu poi decidi quale tenere quella che funziona meglio ecco insomma quello che state vedendo adesso schermo è il titolo con cui perdo più tempo io al computer attualmente questo ibrido di sparatutto gioco di ruolo gioco di ruolo gioco online insomma è un'ibridazione interessante insomma vediamo cosa ha lanciato i nostri eh questo è interessante questa è una pistola insomma vediamo eh lo vedo un po' sofferente perchè sto registrando eh vediamo magari qualche altra mappa interessante eh questo è interessante con con carnivora vediamo dove che erano diciamo che questo insomma è un titolo che è uscito l'anno scorso e graficamente è molto bello vediamo magari ecco ma anche questa è una bella location alla città di prometea che gira su un tra l'altro gira su un real engine 4 che inizialmente doveva essere uno di quei engine che era molto compatibile con linux ma poi ha mollato un po' la epics sono messi a fare delle cose non più interessanti negli anni sai che sto compilando gli shader che l'avevo disabilitato prima? non aiutano questi tempi ah eccoci qua insomma insomma franca insomma veicolare queste ambientazioni molto molto science fiction anche vediamo che c'era un boss interessante qua anche ecco 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 diciamo che prima prima di proton questo tipo di videogioco difficilmente si arrivava si arrivava ad averlo così funzionante così velocemente neanche un anno dall'uscita già bello performante simile a quello che l'originale su windows vediamo non mi ricordo più dove è il boss qua eh 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 beh insomma questo è uno dei tanti magari andiamo a vedere gli altri titoli che ho installati adesso magari qualcosa di dell'interfaccia di quello che è retro arc anche questo è un bel titolino insomma invece per giocare questo è nativo tra l'altro adesso si trova anche a pochi euro un giochino molto carino per chi ha magari il portatile con l'integrata completamente nativo mi chiede se è la prima volta che ci sto giocando eh 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 quando non lo tocco da un po' l'audio è molto alto l'audio è molto alto è una specie di running running game mi sa che ho perso i progressi solo le mappe di base ecco un gioco di corse praticamente competitivo che giustamente ho perso come uno che non ci gioca da mo' si un bel titolino titolino leggerino da giocare anche magari con i figli o così con gli amici un po' meno appassionati di bel party game ecco ci sono dei titoli che insomma con cui mi sono divertito molto insomma adesso non mi ricordo più come si gioca bene ecco questa particolarità che man mano che rimangono fuori i giocatori per per riuscire a chiudere la la partita vanno a spingere queste interazioni insomma competitive da maledetti quindi qui riesci a prendere il tuo avversario insomma cose molto molto divertenti ecco questo tipo di interazioni qua insomma ecco consigliato a chi ha magari computer meno potenti che vogliono giocare qualcosa di leggero divertente ecco so bene questa era un altro titolo da qui non mi ricordo come si esce si su steam ancora si diciamo che quello che ti utilizzo principalmente poi comunque avevo scaricato un po' di giochi da installare anche che avevo preso da magari da questi tutti i giochi nati venus che avevo preso da GGOG magari o da humble bundle che per dire facciamo un esempio veloce magari non so installiamo metal slug no beh non devo mettere i permessi ovviamente vediamo la proprietà permessi consentire l'esecuzione seguire il terminale ecco questo è l'installer di di un good old games vediamo qui insomma ci sono giochi che adesso vedi ho un installer libero pro che hanno per carità ha la sua licenza anche lui che posso tranquillamente installare sul mio computer insomma fine tac ce l'ho qua insomma installazione molto classica gli stili windows via e via si che adesso negli ultimi anni c'era anche questa questa novità di fare i packaging direttamente dell'emulatore con il videogioco con il videogioco schermo pieno schermo intero finestra insomma di questi di questi classici da sala giochi non mi ricordo come era un po' di crediti e via insomma e beh insomma anche volendo si usa anche quello però insomma io preferisco essendo che è una industria che è maestra a cuore preferisco sempre acquistare i prodotti ecco se è possibile insomma anche questi classici rivivono in modo semplice quindi andiamo magari a qualcosa di carino o di nativo che avevo scaricato qua velocemente installabile velocemente installabile andiamo runner 2 questo è bello questo è addirittura un debian se mi ricordo che questo mi sa che l'avevo comprato da humble bundle tra i vari che aveva proprio il pacchetto di installazione deb disponibile come download render 2 ok adesso questo ce l'abbiamo penso nel menu perchè di solito questi install ci ritroviamo ce li ritroviamo qua poi tra i giochi aggiungiamo scrivania runner 2 insomma veloce installazione e libera insomma bella cosa questo è un altro titolino simpatico che per i più giovani sono molto dici questi titoli nativi o allora proton ha una cartella sua specifica adesso la andiamo a vedere insieme si allora proton almeno via steam temi sempre la si 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 è una fork e vogliotta di wine andiamo a vederci qua è disponibile qua su github quindi si può si può fusionare si si è una una mezzo fork mezzo mezzo upgrade perchè comunque contiene la base di wine più tutta una serie di patch di cose extra di media converter ecco c'è tutta una serie di librerie anche questi questi cosi qua importanti che sono vulcan di 3d proton che sono tutte le librerie che ti vanno a fare la conversione a vulcan che è una cosa bella molto bella di questo software che ce l'ha già integrato invece di doverlo installare a parte e via così ti dico io fuori da steam personalmente non l'ho mai usato l'ho messo come insomma alternativa eventualmente ho visto che anche l'utris l'utris ce l'ha scaricabile internamente con il client me lo vado a installare l'utris che mi sa che non ce l'avevo si debian elementari solus fedora opensuse chi ne ha più ne metta insomma è disponibile mi ricordo che addirittura questo vediamo se c'era qualche domanda sulla chat dove che ce l'ho eccola qua beh Dario grazie 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 di essere di averci fatto compagnia buona serata sa che è già uscito mi sa che è già uscito allora dove eravamo rimasti sull'installazione di l'utris si anche molto semplice si possono anche addirittura copia e incollare i comandi facilmente insomma per chi è un po' meno esperto di utilizzo del terminale qua si fa anche un po' le ossa con quello che lo è l'utris è già installato beh è bello mi piace scoprire che che mi ero dimenticato di averlo installato questo client eccolo qua il nostro client di l'utris che principalmente si va a utilizzare però dal sito web suo quindi non so un titolo a cui stavi pensando da installare con proton magari andiamo a vedere ti viene in mente qualcosa il pallino beh insomma ti dico essendo in una situazione simile guarda prendermi i titoli su steam che girano direttamente lì per me è tanta cosa ecco perché anch'io lavoro le mie belle 8 ore torno a casa il tempo quello che ho quindi lo vado a risparmiare lì mi compro il titolo e so che mi gira è finita lì insomma me lo vado a controllare qua se c'è bene se no aspetto insomma tempi migliori e via così comunque l'utris è insomma molto bello perché ha c'è tu qua nel browser praticamente vai a vedere la versione dovevi avere la versione GOG tu vai a premere installa ti apre il link in l'utris tac e poi passi qua direttamente il suo client e va e va insomma avanti in modo automatico l'installazione della versione di wine che serve se la scarica c'è ci sono gli script che si occupano praticamente di tutte quelle cose che su wine dovevi dovevi fare manualmente adesso io setup mi sa che non ce l'ho più e cos'è che era scusa la domanda ti è arrivato Nicola buonasera comunque se hai visto ci sono c'è la presentazione o link se magari te la vuoi vedere se hai domande sono qua a disposizione ancora per un po' comunque dicevamo di l'utris insomma ecco diciamo è abbastanza semplice tu passi da da cercarti il titolo qua la piattaforma e poi ti riporta qui insomma l'installazione automatica ecco insomma una bella comodità altro software insomma interessante per stare comodi e sereni ecco per la configurazione di proton invece lui c'è dentro c'è i file suoi dentro steam dentro le cartelle di steam no adesso esattamente le configurazioni sue dovrei andare a vedere dove si inseriscono perchè principalmente uso le variabili cioè se devo fare dei cambi di configurazione o aggiungere no delle opzioni di lancio uso le launch options qua di steam per dire per questo gioco mi serve che pulse audio abbia una determinata latenza che abbia determinate opzioni però mi ricordo che qua stavo usando anche un'altra cosa interessante che è un HUD per vedere le prestazioni io utilizzo di quello che sono di quello che è l'hardware che ero ecco manghood beh questo è un gioco un po' grafico ma penso che e bambini non ce ne siano ma insomma se c'è qualcuno che è sensibile alla violenza grafica me lo dica adesso che se lo fermo adesso perchè questo è un gioco parecchio parecchio horror diciamo ecco qualcuno è sensibile e basta che mi dica insomma vediamo eh si questo è uno dei requisiti tra l'altro se non ricordo ogni tanto ci riprova a reinstallarlo fallisce e fa partire comunque il gioco cioè caso a parte killing floor si ti va ti va ti va praticamente lui si crea la sua sandbox no? la sua la sua area virtualizzata insomma con wine dove ti va ad installare automaticamente eventuali dipendenze di cui ha bisogno no? sia il dotnet che sia directx o quel che è del gioco windows se lo fa tutto tranquillamente da solo è tutto integrato e praticamente la cosa che fai tu prendi e giochi cioè quello che hai la soluzione cioè chiusa nel suo environment quindi che non ti va ad influire sul sistema operativo in sé cioè chiusa lì sulla sua palla di windows che ti fa girare il gioco e beh basta praticamente fa quello ti va a contaminare il resto no 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 qua su steam tu cioè raramente devi fare qualcosa magari su proton db c'è scritto che devi installare qualche di solito ci sono le guide ed eventuali installazioni un po' più particolari ma in buona parte dei casi proton già sa cosa serve al gioco e lo lancia e basta si praticamente ovviamente ti vai a assicurare prima che sia compatibile cioè quello mi raccomando che poi non arrivi ad avere insomma delusioni e trovarti che è un gioco che ha l'anti cheat del cazzo e perdonatemi il francesismo si perchè veramente hanno scritto una quantità di anti cheat invasivi che girano su dei blob mezzi installati sul kernel windows che sono una schifezza unica oltre a violare la privacy il file del sistema cioè una roba veramente indegna ecco allora questo è mango hud in funzione che ovviamente mi va a monitorare le risorse insomma il carico di quella che è la gpu la cpu e i frame per secondo insomma che mi va a uscire i frame time la mia scheda video la versione di vulcan su cui sta girando il tipo di libreria direct x to vulcan qua insomma i frame per secondo magari facciamo una partitina breve giusto per farlo adesso no il tipo di grafica che ha questo videogioco qui e anche questo titolo uscito 3 a 3 anni fa circa una cosa abbastanza divina giochi moderni ecco si riescono a far girare magari con un po' di calma su quella che supporto però insomma arriva ecco questo tipo un stile left for dead più di chi lo conosce insomma di valve un gioco cooperativo ci sono insomma determinati mostri da sconfiggere si va a creare la squadra insomma a cooperare con il resto del team insomma i ruoli e via così insomma anche questo un bel titolo moderno ecco ecco se andiamo a svangare mi sa mi tocca mi tocca la vanga quindi sono quello che deve pulire il casino quando abbiamo finito ecco questo gioco qua dovrebbe avercelo da quel che ricordo la chat però io di solito lo disattivo perchè magari gioco con qualche amico allora di solito lo tengo sempre disattivata da dov'è quello che mette gli esplosivi qua balanza granate ecco andiamo a fare un po' di esplosioni ovviamente qualche bel glitch bello bello in diretta il gioco ciao allora attualmente ho comprato quest'anno mi sono trasferito una casa nuova qua vicino a parte di villan franchese di verona e praticamente ho messo sulla fibra e praticamente avendo il pc nella sesta stanza riesco a avere collegamento direttamente al modem con la lana quindi insomma bello diretto però anche col wifi mi trovavo bene insomma non è una limitazione poi dipende sai col wifi è sempre da vedere la distanza che tu hai dal computer in sé da quanto lontano sei dal modem e via così da che tipo di dispositivo usi per collegarti anche che magari una chiavetta moderna ti va a fare prestazioni maggiori ovviamente su standard più nuovi eh sì eh sì eh beh sì una bella riberazione insomma arrivare a scaricare i titoli qua 30-40 gigabyte in un'ora e mezz'ora serenamente è una bella cosa sì eh sì eh assolutamente eh eccoci qua adesso mi ammazzano forse no eh interessante di questo gioco questa modalità ogni tanto va stile matrix al ralentatore e si passa tutti sparano al ralentatore cosa molto quello stile lì di film no praticamente succede quando tu fai un'uccisione con un colpo alla testa no? uno dei giocatori la fa e comincia quella modalità per tutti i giochi essendo multiplayer parte per tutti i giocatori praticamente sì esatto però è un multigiocatore tra l'altro c'è un titolo interessante anche open sword è quel che ricordo anche che si chiamava double action bungaloo questo qua che è una specie di 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 in stile in stile in stile John Woo che lì praticamente vai a giocare quasi in stile Max Payne praticamente multigiocatore che so che c'è sulla lista quella che avevo messo tra i link anche quello ecco insomma anche questo diciamo anche l'interessante la parte interessante comunque è il riquandro in alto a sinistra che ti permette di monitorare le performance di quello che sta facendo il computer e di conseguenza scegliere a che livello di dettagli giocare e risoluzioni e via così insomma adattare con mango had questa esperienza insomma al proprio hardware vabbè bene torniamo il desktop qua bene ci sono altre domande richieste di vedere qualcosa e magari retro arc visto che c'era non abbiamo ancora guardato c'è retro arc ce l'ho sul desktop questo è il famoso multi emulatore e con questo posso usare anche il controller tranquillamente facciamo magari un overview veloce di quelle che sono le funzionalità ecco di retro arc con le principali funzioni insomma tu carichi il tuo emulatore carichi il tuo contenuto insomma e poi andare a giocare se no poi puoi a vederti tutte le impostazioni dei vari driver e via così qua andando a destra sulle impostazioni le performance preferite la cronologia di quei che sono stati i miei test vediamo anche il netplay bella cosa il netplay di questo emulatore che volendo si riesce a collegarsi in rete e giocare con altri giocatori se qualche mi ricordo dovrebbe esserci la possibilità adesso mi ricordo se il mio era bagato o non aggiornato che praticamente scaricare core aggiuntive anche se io qua mi sa che ho la lista vecchia perchè ho solo quelle che avevo già scaricato quindi forse lo devo aggiornare comunque praticamente ti permette di scaricare queste core e di giocare praticamente adesso mi vado a caricare dolphin che è l'emulatore di gamecube nintendo e della wii vi vado a vedere nella mia cartella dove era il videogioco tra gli scaricati avevo il gioco scaricato qua gcn wii beh anche questo strikers è bello super smash pro facciamo strikers dolfinemo eccolo qua e abbiamo il nostro gamecube bello funzionante bello pronto già da giocare minima configurazione ho fatto solo il download di quello che era insomma la rom di un gioco che possiedo e vado direttamente insomma a fruirne senza dovermi sbattere più del dovuto insomma tipo un bel titolo calcistico del gamecube per dire io attualmente sto utilizzando un vecchio controller della playstation 2 con un estenditore praticamente che mi fa passaggio dalla playstation 2 all'osb eh guarda ho scoperto che questo è quello con cui ho meno problemi di tante tante altre cose che ho a casa questo tipo di connessione col cavo che passa usb è quello che mi crea meno problemi perchè adesso sto provando svariati tipi di altre connessioni con joystick magari della switch ho provato anche di comprare un dongle adesso di un distributore abbastanza popolare che fa chiavette ma le sto ancora testando ecco quindi faccio fatica a dare una raccomandazione fatta bene comunque ti dico allora i controlli principali che sai che funzionano bene sono quello dell'xbox soprattutto nella versione 360 col cavo quello guarda sei sicuro che con linux penso che sia quello veramente che ho trovato meno problemi più compatibilità con i software nativi e non nativi veramente se devo consigliare un controller da usare facile quello dell'xbox 360 col cavo lo attacchi e va cioè lo attacchi e va non ti devi sbattere non ti fai problemi a dover configurare cose quello si quello mi sento di consigliarlo insomma nel caso di acquisti comunque insomma anche stimo fra abbastanza configurazione è che spesso la limitazione diventa l'inconoscimento hardware del software scusa adesso metto in pausa perchè sta disturbando l'audio qui di retroarc sicuramente la più grande limitazione di quella che è la compatibilità dei vari controller su linux che i problemi che io più ho trovato nei tempi è stato quello che è l'hardware id interno di come lo vede il kernel linux e di come chiama il joystick poi l'applicazione perchè praticamente tanti usano l'x input e va a riconoscere l'xbox 360 controller originale magari quello troppo già ti va a rompere i coglioni perchè trova un hardware id diverso per farti un esempio dimmi guarda io sono un grande sostenitore del fatto che la migliore distribuzione è quella che sai usare allora diciamo che io non ho mai usato soprattutto ubuntu principalmente perchè è quella con cui sono più familiare so dove andare a trovarmi il driver senza problemi i repositori esterni anche installarmi e trovarmi il posto dove installare il kernel più aggiornato direttamente scaricandolo so dove lo compilare e così via quindi tendo ad usare principalmente quello la cosa però secondo me interessante soprattutto chi ha magari le schede video amd è usare una rolling release cioè usare comunque una rolling release che sia arch, mangiaro, opensuse, tumbleweed soprattutto magari l'ultima la opensuse quella secondo me è quella l'alternativa migliore per chi vuole insomma le migliori prestazioni di quel tipo di scheda perchè hanno il driver che è integrato nel sistema operativo e di conseguenza vanno beneficiare da aggiornamenti insomma sempre freschi di quello si sono ci sono sono principali ovviamente in inglese bene o male vedi una delle prime slide è quella che punta a questo sito su reddit adesso chiudiamo un po' di schede e ci lasciamo solo quelle importanti di reddit insomma queste tutte le schede che poi trovi anche nella presentazione questa è una guida insomma generale in inglese di come arrivare ai driver no? insomma belle guide su reddit e questo li si si è una delle prime slide se ti voglio vedere qua proprio all'inizio ci sono le starting wide di reddit beh insomma le rivediamo poi in altro magari adesso vediamo anche i siti di cui non ho parlato che sono c'era vediamo se c'è qua anche il link diretto gaming linux questo molto bello sito molto bello proprio dedicato dedicato completamente al gaming su linux questo insomma trovi tutti i titoli di uscita insomma parlano delle distribuzioni qua magari vedi parla di fedora 33 vediamo cosa che dicono eh ships with wine vedi queste ships with wine e dire di xvk cioè che escono fuori le versioni nuove delle distribuzioni come fedora ecco sono determinati software già già disponibili vediamo cosa che è interessante che dicono guardi fanno insomma le recensioni delle nuove uscite addirittura facebook entra nel cloud gaming vai a vedere anche i saldi poi è molto interessante insomma i saldi di GOG con un po' di giochi horror qua interessanti insomma come Soma Outlast questa roba da cagarsi addosso allora vediamo se ho il login qua fatto so che ci sono tante alternative che tu puoi andare nel check out è andato il check out vediamo se mi ricordo il password del GOG vediamo anche in diretta al check out cosa è disponibile ok devo andare sull'email beh questa parte la tagliamo dai so adesso mi rubano l'account giusto per rubarmi l'account e GOG bravo 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 Nicola allora cosa abbiamo qua abbiamo Visa via più chi ne ha più ne metta ecco si si veramente pare che sia Paypal di solito tendo ad usare Paypal per comodità qua ne hai quanti ne vuoi mi sa che era entrato anche su Humble Bundle che è un altro interessante vediamo qua questo è un altro di quelli che ho fatto vedere insomma ce l'è anche nella presentazione che questi offrono questa offerta limitata tra molte virgolette insomma è un abbonamento mensile questo è molto interessante ci sono un sacco di giochi ce l'offrono anche questo tipo di servizio qua ad abbonamento e anche qua insomma di pagamenti di diversi tipi di pagamento ne hanno quanto vuoi quindi vabbè andiamo li a rilogare si 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 no no è molto assolutamente assolutamente beh GOG penso che da molti punti di vista molto interessante come piattaforma ci sono anche se ti ricordi insomma molti giochi che ti avevo condiviso l'anno scorso insomma vengono da quelle piattaforme lì insomma sono liberamente condivisibili insomma bella cosa poi insomma questi hanno i game server live stream beh è bello questo sito insomma per fare un po' anche listi di giochi liberi insomma con le licenze ahahahahah ahahah 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 bello ahahah abbiamo un piccolo gamer che cresce competitivo bello e bene attento e poi diciamo insomma diciamo per altre risorse hai le libre game wiki anche pc gaming wiki questo è proprio una wikipedia dedicata completamente di giochi liberi open source e qua diciamo per tutti gli altri titoli puoi andare a vedere insomma la ricerca di quello che è magari il gioco che avevo lanciato prima non so c'eri ancora borderlands tipo 2 vai tranquillo si si eh comunque abbiamo stiamo registrando tutto quindi bene male poi quando hai tempo te lo puoi andare a riguardare ahahah figurati comunque ecco diciamo che qua tu hai da un qualche anno questa parte praticamente anche questa wiki ti va a vedere eventuali impostazioni anche sul sistema operativo linux che hanno aggiunto nella wikipedia dei videogiochi quindi vediamo se adesso andiamo a vedere qualche sezione dove che era middleware questi sono c'è una parte vabbè qua ci sono i requisiti di sistema però c'erano anche cose tipo ecco se non fai di configurazione come ecco come come fixare se il gioco non parte le guide eventuali problemi cosa cancellare insomma hanno queste sezioni qua nel caso tu hai bisogno di supporto se hai qualche problema trovi delle delle informazioni dimmi e compriamole ste schede video eh lì lì dipende dipende da quelle che sono le aspettative di cosa si vuole fare è sempre quello anche dell'ideologia dell'utente cioè se vuoi il sistema open source vai a comprare AMD perchè AMD ha stra investito negli anni nel tenere il driver libero aperto insomma per dire eh adesso interessante dimmi eh per loro è stata insomma una priorità a sviluppare il driver per le loro schede insieme a quella che è la comunità di Linux no no non creando blob sul kernel come hanno fatto con Nvidia cioè più più in linea con quel tipo di mentalità si hanno fatto hanno fatto dei passi da gigante negli ultimi anni loro con con AMD con il supporto delle schede video nuove eh si stanno investendo sempre di più si però si pian piano stanno investendo sempre di più in questo tipo di software se no boh invidia comprare le le serie rtx poi adesso c'è quelle serie nuove mi orienterei su quelle mi orienterei su quelle perchè hanno cioè io ho fatto lo sbaglio tra virgolette i driver voglio vedere il sito allora beh è bello il sito che non si carica allora ha questo addirittura proprio il sito quello completo vediamo rtx nvidia cercando queste serie nuove qua sono le rtx la serie 20 e la serie 30 che è uscita che sta uscendo adesso praticamente che hanno insomma delle nuove funzioni parecchio interessante insomma dimmi e su ubuntu tu hai praticamente un installatore quello che te lo fa in automatico nei driver aggiuntivi se io uso questo per nvidia cioè ubuntu ce l'ha integrato quindi cos'è che usi te di distribuzione non c'è questo tool comunque insomma se tu vai a vedere perché tu li hai portati con prime con prime bumblebee quella cosa lì non giusto se non ricordo male come driver perché mi ricordo cos'è eh mi dici un attimo cos'è che era la configurazione del processore cos'è 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 la vediamo cos'è la prime era prime mi sa nvidia due render of low the bumblebee era uno anche che c'è esatto ah optimus che c'erano tipo che c'erano tipo si si c'erano tipo eh perché c'erano un paio di di loader diversi perché c'è optimus laptop vediamo se ti riesco a trovare comunque tu vai tu vai installare comunque penso che era qua la geforce cos'era la mx100 series questa qua dei netbook saranno probabile si insomma se comunque comunque qua dovremmo no windows linux 64 bit e ti trovi insomma dopo lo puoi scaricare da qua poi c'è insomma un runner suo che per qualsiasi tipo di distribuzione anche a debian questo va ormai è è indipendente dalla distribuzione si installa qua sul sito li trovi poi ogni tanto ecco vedi trovi trovi queste queste guide come questa di fedora di come usare bumblebee che effettivamente il tuo caso è uno di quelli più spinosi difficili da utilizzare ok ok capito eh non è penso che sia una cosa delle più questioni più spinose che ci sia a livello di 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 scheda grafica optimus e bumblebee veramente ho trovato più più persone che si lamentavano insomma del funzionamento giustamente perché però beh vediamo che ci stanno ancora lavorando perché magari non c'è non c'è non c'è non c'è invidia prime questo è un altro che comunque diciamo che mi ricordo mi ricordo devo trovarti magari te li mando insomma se mi scrivi te li vado a cercare bene perché adesso mi ricordo cos'era un'altra alternativa bumblebee o anche prime zoom cioè c'erano dei comandi che tu potevi usare per lanciare un software piuttosto che con una scheda grafica e va andare a chiudere insomma la compatibilità direttamente sul software invece che stare lì a a switchare proprio tutta la scheda video e via così eh un bel argomento interessante quello lì effettivamente da approfondire tutto il discorso Optimum beh io direi che se non ci sono altre domande potremmo anche chiudere la serata qui che dite signori ma figurati comunque se hai altre insomma curiosità approfondimenti nella presentazione c'è tutto eh se li spezziamo già da piccoli magari ci rimangono perchè sennò poi si viziamo questi bambini eh si usare il computer insomma in modo indipendente ecco ci ricerchiamo le guide di Counter Strike a come nascondersi dietro i muri eh una bella scienza anche col videogioco lì e si ci ricerchiamo Grazie a tutti.